Formazioni abruzzesi in evidenza ai campionati italiani di Bocce di Bergamo, una in particolare, presidente, la Virtus L'Aquila che ha ottenuto un prestigioso riconoscimento. Sì, abbiamo fatto vedere che l'Abruzzo ancora è vivo e con la Virtus L'Aquila che ha vinto il campionato italiano di società di terza categoria abbiamo messo un tassello. Purtroppo nella seconda categoria la Chieti Scalo non è riuscita ad arrivare negli otto, ha perso proprio l'ultima partita, però comunque sì, abbiamo fatto vedere che siamo vivi. Presidente, ripresa un po' l'attività normale dopo un anno e mezzo molto complicato, comunque ci si sta avviando ad una certa normalità, le chiedo qual è lo stato di salute delle Bocce nella nostra regione in Abruzzo? Lo stato di salute è, diciamo, convalescente. Stiamo riprendendo, però ancora ci sono delle Bocciofile che non hanno ripreso in pieno l'attività, anche perché magari con persone un po' anziane che non se la sentano di rischiare. Comunque sto cercando di frequentare e seguire un po' tutte le gare, tutte le Bocciofile e di spingere queste società a riprendere, perché l'importante è stare vicini. Se noi riusciamo a far gruppo tutti insieme, allora anche queste Bocciofile, diciamo, che rimangono un po' indietro possono riprendere. Se le lasciamo a se stesse è difficile che poi riprendano. Ci dovrebbe essere un evento sempre sull'Aquila, in occasione dell'Aquila Città dello Sport 2022. 2022. Cercheremo di chiedere qualche manifestazione a livello nazionale anche per, diciamo, la zona del mare. E poi, comunque sia, riprenderemo in pieno per l'attività con i campionati. Daremo una spinta ancora più forte ai campionati, perché secondo me questi saranno il futuro della nostra regione.